Buongiorno a tutti, stiamo continuando ad andare verso Lord, oggi siamo passati per Carnarvon, la città di Carnarvon. Carnarvon è una città vera grande, quindi si può fare rifornimento sia di cibo che di benzina a questo posto, ci sono anche le farm, è famosa per le farm, noi però non ci fermeremo qua a lavorare, però si possono fare anche dei tour e visitarle nel caso si voglia. L'unica cosa che abbiamo fatto noi è stata andare al farm market a fare un po' di rifornimento di cibo a questo posto. Sì, siamo che con una macchina piena di cibo adesso, visto che abbiamo trovato supermercati economici. Ma l'attrazione principale di questa città in realtà è a 70 chilometri da essa, chiedo dove ci troviamo adesso. Insomma, indovinate cos'è, dai, indovinate. Gira, gira, adesso, adesso! Questi sono i blowholes, cioè soffi d'acqua nel mare che passano da sotto la roccia e escono fuori spruzzati all'altissima velocità dai bambini che ci sono. Grazie a tutti!